Al maschio ingioino di Napoli, nuova edizione dell'Erasmus Welcome Day, l'evento di benvenuto che il Centro Europe Direct del Comune organizza per gli studenti stranieri presenti in città. L'iniziativa nasce per accompagnare i giovani universitari durante la permanenza a Napoli, fornendo loro consigli utili e favorendo il rapporto diretto con le istituzioni europee, nazionali e locali. Questa giornata sta diventando veramente una bella tradizione, non solo un modo per tutti noi, per accogliere tutti gli studenti e le studentesse che trascorreranno un periodo di studi nella nostra città, ma anche un'occasione per creare un legame tra di loro e naturalmente con la nostra città. Ci auguriamo che per loro possa essere un'occasione speciale per conoscere non solo quello che può essere il loro percorso di studi, ma anche le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura. E quest'anno poi abbiamo voluto dedicare un ricordo speciale a una ragazza Erasmus che era qui nello scorso inverno e che purtroppo ha perso la vita in un incidente stradale. Quindi abbiamo voluto raccontare la sua storia, la storia di Lisa, e vorremmo che anche i ragazzi Erasmus di quest'anno potessero avere il suo stesso entusiasmo e la sua stessa passione. Dopo il successo della scorsa edizione sono state rafforzate le attività proposte in termini di informazioni offerte ai partecipanti. È il frutto del lavoro che il Centro Europe Direct sta portando avanti negli anni, intercettando i bisogni degli studenti e delle studentesse Erasmus che scelgono Napoli come destinazione per il proprio periodo di studio all'estero. Per l'occasione nel cortile di Castelnuovo è stato allestito un villaggio dedicato con stand informativi e attività interattive per coinvolgere gli studenti e promuovere la conoscenza reciproca. Con il supporto dei volontari delle associazioni studentesche, i ragazzi sono stati anche guidati in una breve visita al castello. Grazie a tutti.